Nel dodicesimo anniversario del sisma dell'Aquila del 6 aprile 2009 resta straziante il dolore per il ricordo delle vittime. Una cerimonia, quella avvenuta ieri sera, che è stata per forza di cose condizionata dalla normativa anti-covid che ha impedito per il secondo anno consecutivo lo svolgimento della fiaccolata per le vie del centro storico. Non sono mancati invece i 309 rintocchi delle campane in memoria delle 309 vittime e poi ancora l'accensione di un simbolico bracere da parte di un vigile del fuoco posizionato davanti alla chiesa di Santa Maria del Suffragio e sempre da Piazza Duomo, cuore del centro storico ed esempio di una ricostruzione efficace, un fascio di luce che si è stagliato verso il cielo. Nonostante le restrizioni dunque, emozione e dolore hanno caratterizzato i momenti clou della commemorazione. Nel segno del ricordo ma anche della speranza sia per la rinascita della città sia per un epilogo positivo della pandemia, all'Aquila si è chiuso nella serata di ieri il programma ridotto della cerimonia. Oltre al vigile che ha acceso il bracere in una piazza Duomo praticamente deserta erano presenti il sindaco Pierluigi Biondi, il sindaco di Cugnoli Lanfranco Chiola in rappresentanza dei comuni del cratere, il prefetto Cinzia Torraco e il cardinale Giuseppe Petrocchi. Proprio l'arcivescovo metropolita dell'Aquila nel corso dell'omelia pronunciata nel pomeriggio di ieri durante la funzione religiosa ufficiata nella chiesa delle anime sante aveva detto il dramma del terremoto ha reso ancora più popolo la gente aquilana. La comune tragedia affrontate insieme a stretto con nodi inscindibili il muto senso di appartenenza. Quando un trauma che deriva da una calamità generale colpisce una popolazione viene vissuto in modo frammentato, ciascuno lo porta per conto suo o per aggregati sparsi. Invece dove c'è popolo il dramma è condiviso, vissuto da tutti e da ciascuno in modo diverso ma universale. Nella mattinata di oggi sindaco, prefetto e arcivescovo hanno partecipato alla cerimonia commemorativa organizzata all'interno della scuola ispettori e sovrintendenti della guardia di finanza. Poi a mezzogiorno Biondi, il presidente della regione Marco Marsiglio, un rappresentante del comitato dei familiari delle vittime e il sindaco di Villa Sant'Angelo Domenico Nardis in rappresentanza dei comuni del cratere si sono ritrovati davanti al sito della casa dello studente in via 20 settembre per un altro significativo momento del ricordo in uno dei luoghi simbolo della tragedia. Questo è uno dei simboli probabilmente tra i più dolorosi perché quando colpisce i ragazzi naturalmente il dolore è ancora più intenso però l'intera città dell'Aquila e tutto il cratere sismico, decine e decine di comuni furono devastati e le ferite ancora si vedono a occhio nudo nonostante una ricostruzione che sta finalmente decollando, si comincia a rivedere una città restituita alla vita, palazzi che tornano a splendere di una bellezza che in alcuni casi da secoli non esprimevano più, quindi questo ci aiuta a sperare, a guardare al futuro con ottimismo nonostante anche questo anno durissimo di pandemia che ha aggravato una situazione socio-economica già difficile da affrontare, però siamo sempre stati capaci di risollevarci, lo spirito di questa città e di questo territorio è indomito e indomabile e quindi sono sicuro che sapremo andare avanti e che il futuro ci riserverà grandi prospettive e soddisfazioni.